Hai bisogno di supporto? Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà o Signore m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Salmi 94 18 19. Ti invito a riflettere per qualche istante sul tuo passato. Ogni volta che hai attraversato una prova dolorosa e difficile, cosa ti ha aiutato ad uscirne? Spero che per molti a fare la differenza sia stato il fatto di essere circondato e sostenuto da Dio e forse anche dai propri cari. La Bibbia afferma, infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Ecclesiaste 4 10. Qualunque sia il periodo che stai attraversando, lascia che ti incoraggi. Non sei solo. Gesù è lì. Ti sta rialzando. Egli è sempre con te fino alla fine dei tempi. La verità è che il cuore dell'uomo può riposare solo se il cuore di Dio è il suo sostegno e la sua forza. Tu non temere perché io sono con te. Non ti smerrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. Io ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Isaia 41 10. Abbandona il tuo cuore tra le braccia di colui che può sostenere perfettamente la tua vita. Grazie di esistere. Eric Selleriet.